Si chiama profezia dell'armadillo, ogni previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per oggettivi e logici destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti. Potrebbe essere più chiaro? Un vademecum per prendersela nel culo. Per immedesimarvi nello spirito di Zero Calcare avete fatto una dieta strettamente a base di Bloom Cake prima delle prese o no? Per forza. Anche dei corsi d'apnea. Da contratto era previsto, poi dopo. Scherzi a parte, Zero Calcare sta dando voce a un'intera generazione e soprattutto all'ansia di un'intera generazione. Voi forse siete un po' più giovani, però secondo voi perché? Tutti. Certo ovviamente, l'armadillo non ha età. Perché secondo voi questa generazione è così in preda all'ansia e anche un po' al disagio, come si diceva, c'è molto disagio. Voi arriverete ai trent'anni, no? Palla più giovane. Ma io un disagio che c'avevo qualche tempo fa, ora mi sto un po' passando, era proprio il percepire che di fatti gli altri o gli adulti non sapevano minimamente quello che te provavi. Penso che anche nel fumetto poi ci sia questo scarto, insomma, tra quello che un ragazzo addentro, quelle che sono le sue aspettative e invece l'idea che gli altri si sono fatti di te. I discorsi generazionali sono sempre complessi. Rispetto alle ansie generazionali noi l'abbiamo vissuta un parecchio, proprio prima di iniziare a girare poi il film. Perché in effetti, come dici, Zero Calcare dà voce una generazione, quindi c'è quasi un peso da sopportare nel momento in cui interpreti quella storia attraverso il cinema. Che è un'ansia che però poi via via è sparita appena abbiamo iniziato a girare, appena abbiamo iniziato noi a conoscerci, ad avere a che fare l'uno con l'altro, perché era importante poi non sentirci troppo vincolati e quindi insomma dare anche di poi libero sfogo a quella che è la nostra interpretazione dei personaggi, della storia. Rispetto alle ansie generazionali io mi ritrovo con quello che ha detto Pietro, quindi non so che altro puoi aggiungere, se non che qualcosa che è vivo. Quindi sono con me, perché dice l'incomunicabilità tra la mia, è la mia, è la mia, è la mia. È colpa sua. È colpa deputativa. A proposito di animali, l'armadillo, allora c'è il grillo parlante di Pinocchio, adesso c'è l'armadillo di Zero Calcare e voi ce l'avete uno spirito guida e che forma prende? Ma non deve essere necessariamente un animale, ce l'avete voi? Pietro ce n'è uno interessante, senti eh? È un agente segreto, sì sì, io ho questo agente segreto dell'americano che era che era cresciuto nel Bronx, vabbè ora non sto qui, è una storia, un nome. Sono cresciuto, aveva visto tutti i problemi che io di volta in volta avevo e me li risolveva. Ma come si chiamava? No no no, senza nome. Senza, non l'ha detto perché sei mai detto, è segreto. Quando è andato in pensione questo? No no no, ancora è... Eh sì sì, lavora. Lavora ancora? E qui vicino a noi, sì sì. Eh tra noi? Sotto il divano. Potrebbe essere qui in questo momento. Voi no invece, voi... Ma no, a me... Non mi risulta, no. Non ce l'ho ma qui. Non che sappiate, insomma. No. Nel film viene ripreso un discorso importante della graphic novel che è quella della caduta dal film L'Odio. È molto, diciamo, un po' deprimente come discorso perché dobbiamo tutti cadere, dobbiamo tutti sfracellarsi ma possiamo decidere dove, come e quando. Voi siete contenti della caduta che avete scelto o no? Ancora devo decidere. Ma l'atterraggio è quello che conta. L'atterraggio, sì. Ecco, l'atterraggio si spera che sia più lontano possibile ancora. Tutti noi, no? Certo. Però sì, io credo lo scopo della vita sia prepararsi all'atterraggio. Sì, l'atterraggio. E con sta perla... Il 30 assicurato, eh? Mi sentivo un po' mare. Grazie mille. Grazie. I vampiri sono ricchi e fascinosi. Invece i zombie sono proletariato. Quanto anni c'hai te? 27. Non è meglio, la fregna, no, eh?